Sono con Marco Corradi, presidente di Acer, azienda casa Emilia Romagna di Reggio Emilia e anche presidente del gruppo di lavoro Energy Expert Network, un gruppo dedicato all'efficienza energetica degli edifici. Infatti oggi siete qui per fare un po' il punto della situazione sugli edifici a energia quasi zero, NZEB, vengono chiamati, Near Zero Energy Building. Innanzitutto in che modo si possono coniugare all'edilizia residenziale questi edifici? Si devono coniugare perché la casa è un bene importantissimo per le famiglie, come comfort, perché ci vivono tantissima parte della loro vita e oggi perché la casa rappresenta un costo considerevole rispetto ai redditi che le famiglie hanno. Le voci di spesa sono quelle di un mutuo, di un affitto, delle spese di gestione e oggi tantissime in maniera molto rilevante le spese energetiche. Quindi un edificio a consumo quasi vero per una famiglia vuol dire risparmiare parecchi euro che può utilizzare per i consumi, per migliorare la propria condizione di vita. Faccio un esempio, un edificio nuovo in classe A, uso questo termine un po' più comprensibile, in classe A massimo si potrebbe arrivare a spendere 350 euro all'anno di energia. È chiaro che tutto il lavoro lo dovremo fare principalmente per riqualificare i patrimoni edilizia esistente, perché quella sarà la vera fetta di lavoro che dovremo fare. Però vuol dire che famiglie che oggi pagano 1.500, 2.000, 2.500 euro potranno essere messe in condizione di pagare fino a 500, 600 euro all'anno. Quindi capite benissimo che la differenza è una differenza notevole che ha un valore altissimo proprio per il benessere dei famigli in modo particolare in un momento come questo di crisi economica. Oltre a questo è una grande opportunità, naturalmente anche per il sistema imprenditoriale, perché se riusciamo ad avviare processi di riqualificazione del nostro patrimonio, che ricordo comincia ad essere un patrimonio che comincia ad avere un bel po' di anni di età, naturalmente oltre a rendere le case confortevoli e meno costose, creiamo anche condizioni di occupazione di cui in questo momento ne abbiamo tanto bisogno. Come è fatto a livello di materiali un edificio a energia quasi zero? Soprattutto deve essere, questo lo definisce già la direttiva europea, sostanzialmente un edificio ad altissima prestazione energetica, soprattutto attraverso l'involucro. Quindi l'involucro diventa l'elemento fondamentale per poter risparmiare. E quello che manca di energia deve essere prodotto da fonti rinnovabili che si devono realizzare il loco, ma sostanzialmente è l'involucro, quindi è il fabbricato nel suo complesso che deve essere messo in condizioni di non consumare. Però lei ha parlato anche di riqualificazione di un patrimonio edilizio già esistente, ma è più difficile riqualificare che costruire ex novo con nuovi materiali? Certo, l'obbligo del patrimonio esistente ce l'abbiamo perché si sa da dati e da valutazioni che stanno facendo che 70, 80, 60, comunque una fetta rilevante di questo patrimonio nel 2050 sarà ancora in piedi. Quindi vuol dire che il lavoro sarà sul patrimonio esistente. È indubbio che gli accorgimenti, le tecniche, le tecnologie, le soluzioni architettoniche di un edificio nuovo difficilmente possono essere utilizzate al massimo di rispetto per gli edifici esistenti. Sono edifici che ci sono già e quindi, ad esempio, l'orientamento non si può modificare, tanto per fare un esempio. Però comunque è possibile fare degli interventi per portare questi edifici a dei livelli di altissima performance. È chiaro che in tutte queste cose comunque quello che è importante, che sta nel principio anche di edificio a consumo quasi vero, è quello dell'approccio. Noi sappiamo che dobbiamo fare nel continente europeo investimenti per 800 miliardi di euro per riqualificare il patrimonio di edifici che ci sono complessivamente nell'Unione Europea. Questi 800 miliardi di euro si possono finanziare solamente se noi puntiamo sul risparmio come risorsa per ripagare gli investimenti che andiamo a fare. Quindi l'approccio deve avere un approccio fondamentale che deve puntare a dei progetti che hanno come obiettivo la riqualificazione, quindi la performance del fabbricato, ma sui quali ci sia già anche la consapevolezza di quelli che saranno i benefici. Quindi l'edificio a consumo quasi vero, le performance, eccetera, devono sempre essere viste dentro un'ottica di costi ottimali. Questa è un po' la definizione che si dà a completezza del concetto edificio a consumo quasi vero in modo che si abbia un ritorno reale e concreto di quelle cose che si andranno a realizzare.